131 milioni di euro di investimenti e tariffa calmerata a nuove acque. Il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Rezzo è parte di quella senesa, infatti dato avvio al nuovo piano di investimenti sino alla 2027. Abbiamo fatto i sindaci, su indicazione dei sindaci, ma anche su nostra proposta, un prolungamento di tre anni. Questo prolungamento fondamentalmente, anche se sembra l'uovo di Colombo, comporta circa 95 milioni in più di investimenti e una stabilizzazione della tariffa intorno all'1%. Oggi siamo all'1 e 2, i prossimi anni scenderà sotto l'1%. La società, grazie ad un accordo sottoscritto lo scorso dicembre con un pool di istituti finanziari, UbiBank e BNL e BNP Paribas, ha ottenuto un finanziamento che consentirà di continuare a realizzare gli investimenti infrastrutturali sul territorio. I principali obiettivi sono sicuramente la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, quindi da tanti anni l'approvvigionamento idrico si basa sulla risorsa di ottima qualità proveniente dall'invaso di Monte D'Oglio. Con questo nuovo piano ci sono le risorse finanziarie per poterlo completare raggiungendo fino alle zone più lontane dall'invaso. L'altro tema molto importante sono risorse potenziate per il rinnovo condotto e manutenzioni, quindi contenimento delle perdite idriche e rinnovo del parco infrastrutture. Ultimo, ma non meno importante, il completamento della fognatura e depurazione, soprattutto per i piccoli agglomerati che sono così importanti per il nostro territorio. L'operazione Nuove Acque costituisce il completamento di un percorso nel quale UbiBanca ha affiancato la società nel reperimento delle risorse necessarie a garantire lo sviluppo di infrastrutture essenziali per il territorio e per la vita quotidiana delle comunità. Grazie ad un finanziamento complessivamente pari a 40 milioni di euro, ha dichiarato Lorenzo Fidato di UbiBanca, i finanziamenti alle società che gestiscono il servizio idrico rappresentano una delle attività principali del project financing di UbiBanca.